Maestro, complimenti per la doppietta, complimenti per la vittoria, il mister che aveva chiesto una prova di grande personalità, così è stato. Sì, siamo contenti perché è stata una bellissima partita, abbiamo risposto bene sul campo anche dopo una lunga sosta, diciamo, perché comunque era da tanto che ne facevamo un giorno libero e quindi siamo contenti. I tuoi due gol molto belli che in due minuti hanno indirizzato la partita? Sì, dai, secondo me il primo è stato anche fortunato, però sono contento di aver fatto i primi due gol con gli Ascoli, quindi va bene così. Hai messo un zampino anche su quello di Baschirotto? Sì, perché quando è che faceva poi Baschirotto così? Baschirotto è qui, quindi. Una vittoria che può lanciare questo Ascoli dove, secondo te? Non lo so, vediamo, scaramanzia, non dico niente. Un giudizio invece sul girone di andata dell'Ascoli, 29 punti, sono un bottino che mancava da molto tempo. Tanta roba, siamo molto contenti e speriamo di continuare su questa strada. Una dedica per il due gol? Vado a dedicarla a mia fidanzata, perché comunque va a tanti sacrifici e... Chiama? Maia. Ed è dico tutta lei, tutti e due. Grazie. Grazie a voi. Grazie a voi.